Il più cordiale ben ritrovati, nuova edizione del nostro TG Abruzzo in apertura, lutto nel mondo del ciclismo in tutta la regione per l'improvvisa morte di Simone Roganti. Aveva appena compiuto 21 anni a stroncarlo un malore in casa a Spoltore. Rossella Luciani. Era una promessa del ciclismo Simone Roganti, ma la sua vita si è spezzata a soli 21 anni. Un malore improvviso lo ha colpito nella serata di venerdì mentre era in casa a Spoltore. Una tragedia che si è consumata davanti agli occhi dei genitori, che allarmati hanno immediatamente allertato i soccorsi intorno alle 22.30. Una volta arrivati nella loro abitazione di Villa Santa Maria, i sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo, ma purtroppo hanno potuto solo constatare il decesso del giovane ciclista. Una tragedia nel mondo dello sport abruzzese italiano. Simone Roganti aveva compiuto 21 anni lo scorso 25 agosto e sarebbe dovuto partire nei prossimi giorni per andare a correre in Belgio, dove avrebbe firmato anche un contratto da professionista. Simone attualmente era il portacolori della formazione marchigiana Continental MGKV Scolor for Peace e il 15 settembre avrebbe dovuto partecipare al trofeo Matteotti di ciclismo, che si corre a Pescara. Purtroppo il suo cuore ha smesso di battere troppo presto. Davvero difficile da accettare una morte così improvvisa per un giovane atleta sottoposto a continui controlli medici per la sua attività agonistica. Non a caso la procura di Pescara ha aperto un fascicolo e il PM Luca Sciarretta ha disposto l'autopsia del corridore per chiarire le cause del decesso. La tragica notizia della scomparsa di Simone Roganti ha scosso l'intero mondo delle due ruote, lasciando tutti senza parole, ma lo strazzo più grande è per il papà Fabiano, la mamma Alessandra e la sorella Lucrezia. E la città di Spoltore si stringe attorno alla famiglia Roganti per il grave lutto che l'ha colpita con l'improvvisa prematura scomparsa di Simone, ritenuto doveroso un segno concreto e tangibile della profonda vicinanza al dolore dei familiari. L'amministrazione comunale ha deciso di proclamare una giornata di lutto cittadino in occasione dell'ultimo saluto allo sfortunato giovane. Esercizi commerciali e uffici saranno invitati a sospendere l'attività in concomitanza con l'eseguio. Omicidio di Thomas Pescara, depositata la relazione dell'autopsia, inoltre il sindaco Mascia ha incontrato RFI per un progetto che trasforma il parco del delitto in un percorso vita per gli sportivi e in un'area giochi per bambini. Avrebbe compiuto 17 anni ieri Christopher Thomas Luciani e nelle ultime ore sono emerse novità sull'omicidio del giovane brutalmente ucciso con 25 coltellate per futili motivi da parte di due coetanei in un parco del centro di Pescara. Era lo scorso 23 giugno. Ora, come riferisce Lanza, sono state depositate le risultanze dell'autopsia eseguita dal medico legale Cristian Dovidio. L'esame, oltre a far emergere conferme sulle modalità del delitto, avrebbe consentito ulteriori verifiche su quanto accaduto ed ora la relazione del medico legale è nelle mani del capo della Procura dei minori dell'Aquila, David Mancini. Stando alle informazioni trapelate subito dopo l'esame autoptico, il 17enne era morto a causa di uno shock emorragico irreversibile, provocato dalle lesioni che hanno interessato entrambi i polmoni. Una morte estremamente violenta, quella di Crocs, questo il suo soprannome, che ieri è stato ricordato all'antistadio flacco del capoluogo adriatico con una partita di calcio tra i suoi amici e le rappresentative giovanili del Pescara. A proposito di sport, il luogo del delitto, il parco Baden-Powell, diventerà un percorso di vita e un'area dedicata ai bambini. È il progetto che il comune di Pescara ha chiesto ad RFI di realizzare nell'area attigua al parco di Via Raffaello. L'omicidio si era infatti consumato in uno spazio di proprietà di RFI che si trova alle spalle del parco, sotto il rilevato ferroviario tra la vegetazione. Dopo il fatto di sangue, il sindaco Carlo Masci ha chiesto di ripulire l'area, per trasformarla, in uno spazio con i giochi, attrezzature sportive e anche un'area di sgambatura cani. Per quanto riguarda i tempi, si parla di un paio di settimane per il progetto. Puntiamo sulla convivialità e sulla condivisione, ha concluso il sindaco, dicendo no alla violenza, alle devianze e a tutto ciò che può distrarre i giovani da una crescita sana. La Procura dell'Aquila apre un fascicolo contro i gnoti per quattro assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti amministrativi. La Procura della Repubblica dell'Aquila ha aperto un fascicolo contro i gnoti su due delibere dell'ASD provinciale, con le quali sono stati assunti a tempo indeterminato quattro dirigenti amministrativi. Le assunzioni sono state effettuate con la motivazione dell'urgenza, formalmente nel pieno rispetto delle norme, con un percorso e una procedura legittimi e trasparenti, non con un concorso dell'azienda regionale, ma con l'azienda sanitaria che ha attinto da graduatorie di idonee ancora aperte relative a bandi indette dal Comune e dal Consiglio regionale. La ASL, maglia nera tra quelle abruzzesi nel buco della sanità, con meno di 46 milioni di euro, secondo quanto si è appreso, ha fatto questa scelta proprio per affrontare le azioni per contrastare il debito. L'ente aveva bandito nel 2022 un concorso specifico per la selezione di dirigenti amministrativi, mai portato a compimento con le procedure che sono a un binario morto. La decisione ha provocato polemiche facendo insorgere alcuni sindacati. Proprio su queste dure prese di posizione sarebbe scattata l'inchiesta. Nei giorni scorsi, come riportato dal messaggero d'Abruzzo, gli agenti della squadra mobile della Questura hanno fatto visita alla direzione della ASL per acquisire le delibere e tutta la documentazione. Non risultano persone iscritte nel registro degli indagati e si tratterebbe di un'attività per verificare quanto denunciato dai sindacati. Il motivo della decisione di attingere ad altre graduatorie, si legge nella delibera, è che le tempistiche di svolgimento del concorso non sono compatibili con l'esigenza di reclutare in tempi brevi risorse dirigenziali atte a garantire la funzionalità minima delle strutture aziendali, rafforzando le quote a più diretta vocazione strategica. A maggior ragione che adesso c'è l'impellenza, si legge, di potenziare il governo dei processi con particolari riferimenti al pezzo del piano industriale, con riferimento anche alla necessità di portare a compimento il piano di risanamento. A Francavilla il 118 cambia sede operativa dal 3 settembre, resta l'organizzazione dell'emergenza a rete. Matteo Porfini Da martedì prossimo, 3 settembre, a Francavilla sarà operativa la sede del 118 presso il distretto sanitario di Contradalento. È stato infatti completato l'iter burocratico riferito al trasferimento delle attività ubicate presso l'ex Padovano, dove nei prossimi giorni aprirà il cantiere per i lavori di ristrutturazione. Come è noto, l'immobile accoglierà la casa di comunità finanziata con fondi PNRR, il luogo nel quale saranno concentrate le attività sanitarie e la continuità dell'assistenza nelle 24 ore. La notizia è stata comunicata alla sindaca Luisa Russo con una nota della direzione dell'ASL Lanciano-Vastochieti, nell'ambito della quale è stata anche chiarita l'organizzazione della rete dell'emergenza, strutturata secondo un modello che prevede l'integrazione di più mezzi diversamente dislocati. La postazione 118 di Francavilla al mare è attualmente dotata di un'ambulanza di tipo India, allestita con tutti i presidi e dispositivi necessari per gli interventi in emergenza-urgenza, con equipaggio formato da infermiere qualificato, formato e addestrato per l'emergenza territoriale, un'atista soccorritore anche egli debitamente preparato. Tale equipaggio, dotato di competenze, conoscenze, formazione e tecnologie idonee, per attuare manovre rianimatorie in qualsiasi circostanza, riesce a raggiungere tutto il territorio comunale in brevissimo tempo. Qualora necessario, nello spazio di 11 minuti al massimo, il mezzo può essere supportato dall'automedica ubicata all'ospedale di Ortona, con equipaggio formato da medico, infermieri e autista, e dotata di tutti i presidi di rianimazione necessari. A questa si aggiungono le ambulanze medicalizzate di Chieti e Pescara, che possono raggiungere Francavilla in un tempo compreso tra 9 e 14 minuti. Ovviamente i mezzi di supporto avanzato vanno a integrare ciò che già è stato messo in atto dall'ambulanza india presente sul territorio di Francavilla, intervenendo laddove ve ne sia la reale necessità accertata dalla centrale 118 di Chieti-Pescara, che rappresenta l'unica struttura titolata a decidere e stabilire, attraverso il dispatch, l'attività di filtro delle chiamate, la gravità dell'intervento da effettuare e il mezzo di soccorso più idoneo da inviare sul posto. L'operatore della sala operativa infatti ha la governance di tutto il territorio provinciale, conosce la situazione reale e i bisogni di quel momento e governa con competenza tutta la movimentazione dei mezzi. Va precisato infine che a seguito della nuova organizzazione dell'assetto delle postazioni di emergenza urgenza, la postazione 118 di Francavilla al mare con l'equipaggio è attiva H24 per 365 giorni l'anno, mentre in precedenza, nel periodo compreso tra il 21 settembre e il 21 giugno, era attiva nelle sole ore diurne, dalle 7 alle 21. L'obiettivo dell'azienda sanitaria è stato strutturare una rete di assistenza idonea a garantire gli interventi in emergenza urgenza secondo gli standard nazionali e internazionali, nonostante la carenza ormai strutturale di medici dell'emergenza. Un servizio filatelico dedicato al mammut, simbolo identitario dell'Aquila, è stato istituito su richiesta del Museo Nazionale d'Abruzzo in occasione del settantesimo anniversario del ritrovamento del fossile. Sono stati così realizzati una speciale cartolina in edizione limitata e un bollo che costituiranno un pezzo da collezione. L'annullo vuole celebrare il ritrovamento eccezionale del mammutus meridionalis avvenuto nel marzo del 1954 nella Cava Santarelli, località Madonna della strada nel comune di Scoppito. Il fossile di 1.300.000 anni è un reperto importante della preistoria italiana fra i più completi d'Europa. Nel weekend sarà distribuita gratuitamente la cartolina con l'annullo filatelico ai primi 50 visitatori giornalieri del Mammut al Bastion Est del Castello Cinquecentesco. Domenica, domani, è prevista anche l'entrata gratuita. Voltiamo pagina. Musica e ricordi. Poo chiudono l'edizione 730 della perdonanza celestiniana all'Aquila. Per noi, Giussi Cinco. Musica e ricordi. E' stata una serata finale da brividi con i Poo in concerto, quella che ha chiuso la 730esima perdonanza celestiniana all'Aquila. Migliaia in delirio per una band che ha saputo regalare grandi emozioni ad un pubblico numeroso e caloroso, oltre 6.000 alle presenze, in platea anche Raul Bova. Un'atmosfera magica nel Teatro del Perdono, alle spalle della piazza, la splendida Basilica di Colle Maggio. E' stato un caloroso omaggio alla musica, alle arti e alla cultura. Un grande evento con una band unica che con le sue canzoni ha saputo abbracciare diverse generazioni, tra ballate romantiche, rock e brani epici, di impegno civile come Parsifal. Il concerto è stato accompagnato dagli straordinari musicisti dell'orchestra del Conservatorio Casella dell'Aquila, oramai una costante, insieme ai cori locali della perdonanza, con il grande maestro Leonardo De Amicis, Red Canzian, Robi Facchinetti, Riccardo Fogli e Dodi Battaglia, con l'indimenticabile Stefano Dorazio, sempre nel cuore e nei loro versi, hanno scritto alcune delle pagine più belle della storia della musica italiana. Un grande evento nato dall'amicizia e dalla stima che lega i componenti del gruppo con il maestro appunto Leonardo De Amicis e la città dell'Aquila. Un concerto straordinario e irripetibile. I Poo con in oro 50 anni di successi, in scaletta i brani più conosciuti, quasi 40 canzoni proposte al pubblico aquilano. Da amici per sempre, passando per cantero per te, rotolando, respirando, stai con me, noi due nel mondo e nell'anima, giorni infiniti, tanta voglia di lei, pensiero, Pierre. È stata dunque la perdonanza ad ospitare la chiusura di un lungo tour che prepara i festeggiamenti nel 2026 dei 60 anni di carriera dei Poo, uno dei più grandi complessi della musica italiana e mondiale. E ora lo sport, il calcio di Serie C, colpo finale del Pescara col mercato estivo che si è chiuso alla mezzanotte. Il club di Sebastiana rivestito di biancazzurro, il centrocampista, ex Ascoli Luca Valzania, liberatosi dalla Cremonese. Per lui contratto biennale. In attacco invece è arrivato il 2001 Scuola Milan Riccardo Tonin dalla Juve Stabia, e infine scongiurata la cessione di Davide Merola che dunque resta a Pescara. Salutano invece il terzino Mario Piga, ceduto in prestito a Lumezzane, mentre la punta, classe 2004 Luca Sassanelli, è finita sempre a titolo temporaneo alla Lucchese. Chiudiamo con la Serie D, con la novità di mercato in casa Teramo. Arriva dalla Ternana l'attaccante argentino Bustos. Sentiamo. Dopo il successo in trasferta nel turno preliminare di Coppa Italia contro Lisernia, il Città di Teramo è atteso domani alle 15 da un altro confronto impegnativo, valevole per il primo turno di Coppa Italia, sempre in trasferta contro il Termoli. Il centrocampista Emanuele Ferraioli ha scontato la giornata di squalifica e si candida per una maglia da titolare in mediana al posto di Baolo Allspinner, al fianco di Esposito. Un Teramano Doc, Emanuele Ferraioli, da due anni con il Diavolo, lo scorso anno è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie D e anche quest'anno è pronto a dare tutto per la maglia della sua città. Lo ascoltiamo in questa intervista. Per me è uno stimolo, è uno stimolo grandissimo, perché a fianco a me parlo del mio settore, che è il centrocampo, siamo tutti degli ottimi giocatori dove giorno per giorno ci miglioriamo, ci confrontiamo e questa è la cosa più importante, al di là di chi gioca, chi si allena meglio, chi il mister crede che sia più pronto, gioca. E questo Emanuele forse è la vera forza di questa squadra, che c'è concorrenza ma è una sana concorrenza, è un gruppo coeso, vi aiutate tra di voi in campo e fuori, questa è la forza di una squadra per vincere. Questa è la forza che abbiamo da due anni a questa parte, ci vorremmo ripetere soprattutto come gruppo. Sul fronte mercato il Teramo ha messo gli occhi su un attaccante argentino ventenne, Gonzalo Bustos, di proprietà della Ternana, che può considerarsi già del Teramo, manca solo l'ufficialità. È arrivato nel novembre 2022 dall'Inter, ma non ha mai esordito con la maglia della Ternana. Solo campionato primavera, per un totale di 42 partite e 14 gol messi a segno in una stagione e mezza. Bustos arriva dalla Ternana al Teramo in prestito, con rinnovo in caso di 10 gol realizzati. Si attende solo l'ufficialità. E per il nostro TG Abruzzo è tutto, grazie per averci scelto, vi auguro buon proseguimento su Vena TV.